Os 2023 continua, lo avevamo annunciato pochi minuti fa e ora dopo aver atteso qualche minuto che Filippo Guarneri, amministratore delegato della Nova Distributori Automatici si liberasse dai tanti clienti che stanno chiedendo maggiori informazioni sui prodotti realizzati sia dalla Nova Distributori che dalla Quaba potesse essere libero e ci parlasse finalmente di questa joint venture realizzato tra le due aziende Filippo sei il benvenuto Ciao Fabio, grazie mille di essere anche quest'anno presente nel nostro stand, ci fa un grande onore che ci vieni a trovare sempre e effettivamente abbiamo questa novità che abbiamo realizzato una joint venture con la società Quaba Ecco, allora parliamo di questa joint venture che appunto aveva preannunciato Pier Giorgio Burattini di cosa si tratta? Quali sono le caratteristiche di questo accordo? Essendo noi costruttori di vending machine da ormai più di 30 anni e nel 2019 essendo partiti anche quel progetto vending machine dell'acqua per riempimento delle borracce ora il mercato è pronto per avere anche prodotti innovativi non più solo vendi nel mondo dell'acqua a questo punto non essendo noi in grado di fare e c'era già un'azienda che era il suo business fare dei riefrigeratori abbiamo pensato bene di unire le forze per servire e far entrare nel mondo vending un prodotto nuovo che quindi ci va a completare la nostra gamma per il servizio vending mentre a loro che erano del mondo della riefrigerazione con i loro clienti stanno chiedendo i prodotti vending questo ci consente di entrare nel mercato vending con tutta la gamma del prodotto acqua completamento del servizio al cliente per le loro necessità e dall'altra parte a loro che avevano solo la riefrigerazione e gli installatori che ora stanno chiedendo le vending machine gli completiamo la gamma anche loro questa era una possibilità per entrambi le aziende di completare le gambe con i minori sforzi possibili e allora abbiamo dunque svelato l'accordo di joint venture fra Quaba e Nova Distributori Automatici sono assolutamente certo che sarà un successo noi prima di andar via ti chiediamo di non prendere un caffè non prendere un bicchier d'acqua perché l'abbiamo già preso da Quaba pochi minuti fa non fruire della macchina delle merendine realizzate da Nova Distributori ma fruire di un gelato erogato dalla vostra specialissima macchina automatica attraverso la quale certamente riusciremo a fare una eccellente pausa come quelle che meritano tutti i clienti della distribuzione automatica grazie Filippo grazie a te Fabio buona giornata